Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti su World of Warplanes, un gioco dedicato completamente agli aerei che mi permetterà di parlarvi del mio terrore, della mia fobia di viaggiare in volo. Inizialmente non pensavo di avere sta cosa, ma negli ultimi viaggi mi sono reso conto che sì, ce l'ho, e quindi ho da raccontarvi un bel po' di cose, anche talvolta ridicole e compromettenti che mi riguardano, quindi ascoltate il video fino alla fine. Vi ricordo inoltre che World of Warplanes è un gioco free to play, quindi vuol dire che è completamente gratuito per tutti voi e potete scaricarlo dal link che vi lascio in descrizione. Si tratta di un link referral e potete anche inserire il codice Hello Warplanes, così come lo vedete scritto ora a schermo, e vi permetterà di ottenere due nuovi veicoli, o forse dovrei dire semplicemente aerei, e poi due slot nell'hangar, che di certo non è male, eh? Ed ecco che inizia ufficialmente la battaglia. Il nostro obiettivo è conquistare diverse zone che inizialmente sono neutrali, questa qui è già stata controllata, e poi dobbiamo distruggere tutti i veicoli nemici. I miei amici sono già riusciti ad abbattere un po' di veicoli nemici, però dobbiamo conquistare anche le altre zone, cosa che ovviamente ci sarà resa difficile da altri combattenti che appunto sono come quello lì laggiù. Spero di riuscire a beccarli in lontananza e dire di iniziare subito con la mia spiegazione un po' della mia paura che ho scoperto avere per gli aerei, o meglio, per il viaggio in aereo. C'è quello lì ragazzi che da solo si è distrutto sulle rocce, non ho capito in cosa consisteva la sua tattica, ma a noi non importa. Dovete sapere che a me capita molto spesso di viaggiare, soprattutto in aereo e in treno, preferisco ovviamente molto di più il treno rispetto all'aereo, però a volte per andare, che ne so, a Londra, per andare a Colonia, come ad esempio la Gamescom, e abbiamo distrutto anche sto veicolo, anzi abbiamo fatto un'assistenza, è necessario prendere un aereo, soprattutto per andare ad esempio negli Stati Uniti. Quindi è inevitabile imparare a saper controllare magari le proprie paure, soprattutto per questo tipo di viaggi. Però ragazzi non è facile controllare magari una sorta di piccolo attacco di panico, perché questo è quello che magari può succedere nel corso di viaggi in cui bisogna prendere un aereo. Questo ragazzi accade per diversi motivi, magari la paura per dire che un aereo possa cadere, la paura delle turbolenze che possono magari risultare per ognuno di noi come qualcosa di incontrollabile, visto che noi siamo in cielo, non avendo piedi per terra non c'è modo di difenderci. Quindi sono tutte quelle piccole cose che magari non ci fanno vivere bene quel viaggio. Questo a me succede ogni tanto, devo confessarvelo, e non è per me facile confessare questa sorta di paura, però ho trovato più o meno diversi modi per riuscire ad essere più o meno razionale in quei momenti. La prima vicissitudine. Ah, veicolo nemico abbattuto, grandissimo. La prima cosa che mi capitò un bel po' di tempo fa fu proprio nel corso di un viaggio verso gli Stati Uniti. Erano ben 13 ore di volo, quindi considerate che una persona che magari va a panico in questo tipo di viaggi, lì è messa malissimo. Riuscì a distrarmi un po', magari ad addormentarmi, e quella fu in parte la mia salvezza. Ma quando mi risvegliai, trovai una scena alquanto strana, che incominciò ad allarmarmi un po'. Mi ritrovai praticamente, non so, una decina di persone che guardavano tutti verso il finestrino, poiché sui voli, quelli lì, intercontinentali, è possibile alzarsi, c'è molto spazio. Gli aerei, ovviamente, sono molto più grandi rispetto a viaggi più brevi. Abbiamo distrutto anche quest'altro veicolo? Così, mentre chiacchieriamo, e la cosa curiosa è che notavo che sempre più persone guardavano sempre nella stessa direzione, e il finestrino era quello, bene o male in concomitanza, o in generale vicino, delle ali. Quindi mi so detto no, questi stanno guardando qualcosa verso le ali. E il mio panico incominciò a farmi pensare che magari, per dire, stava per prendere fuoco uno dei motori, stava per distruggersi un'ala, perché ragazzi erano tutti lì che poi indicavano verso l'esterno. Mi resi poi conto che in realtà eravamo nelle zone forse o dell'Islanda o della Groenlandia, visto che la rotta del volo intercontinentale mi pare ci passi per di lì, e c'era tutta una distesa di bianco, quindi erano tutti che stavano praticamente visionando quello che c'era all'esterno per godersi, per godersi in pratica il paesaggio. E quindi, una volta capito quello che stava succedendo, mi sono tranquillizzato. Però vi confesso che in quel momento, ragazzi, il panico è stato davvero tantissimo. Perché poi vedevo un po' di gente anche quasi allarmata, però poi il panico è passato. Poi vabbè, ci sono stati tantissimi altri avvenimenti, poiché viaggiando da solo capita magari che uno si fa prendere un po' dal panico, capita che si è lì un po' inermi, e mi hanno distrutto, nonostante credo che con la squadra siamo in grandissimo vantaggio, eh. Facendo un po' di esperienze in ogni caso, capito che la cosa migliore è distrarsi, addormentarsi magari, però ho trovato questa scelta, ovvero praticamente giocare con il cellulare, con Nintendo Switch, con qualcosa, ecco, che poi ti possa mettere, come dire, in modo che ti dimentichi completamente del viaggio. Anche perché una cosa fastidiosa è che sulla maggior parte degli aerei non c'è wifi e di conseguenza non puoi né chattare con qualcuno e se sei da solo nel viaggio, praticamente ti ritrovi lì da solo sul serio. Allora, sto provando a distruggere lui, che ragazzi forse riusciamo ad eliminare, no? E abbiamo il 100% di superiorità. Ragazzi, abbiamo ottenuto una vittoria schiacciante così all'improvviso. Anche noi abbiamo fatto delle belle kill. Questa volta ho anche cambiato aereo e ho trovato qualcosa probabilmente di distruttivo. Ragazzi, questo dovrebbe essere davvero forte, anche esteticamente rispetto a quello di prima è tutta altra cosa. Comunque, ritornando al nostro discorso, ho poi notato anche altre cose molto interessanti. Ho visto delle statistiche, che dovrebbero essere praticamente certe e reali, riguardo il fatto che gli aerei potenzialmente sono il mezzo di trasporto più sicuro tra tutti. Questo perché, ragazzi, ci sono delle vere statistiche che dicono che il mezzo di trasporto più, come dire, pericoloso sono le auto e consideriamo che tante persone come me ogni giorno la utilizzano e anche magari per delle ore. Di conseguenza, ragazzi, a quanto pare viaggiare in aereo è qualcosa di molto sicuro e soprattutto i piloti, ad esempio, devono passare, diciamo, devono passare dei test psicologici per portarli agli aerei e poi, vabbè, ci sono le hostess o in generale tutto l'equipaggio, tutti gli operatori di volo, mi pare che questo sia il termine giusto, che sono praticamente preparati a qualunque tipo di problematica ci sia poi, ecco, nel corso della tratta da un punto all'altro. Quindi, ragazzi, mano a mano queste cose nel corso del tempo mi hanno permesso un po' di essere un po' più razionale nonostante viaggiare, devo ammettere, mi metta un po' in difficoltà. Tutto ciò, però, mi vale solo quando viaggio da solo perché magari sono quelli momenti in cui si è un po' più presi se lì da solo ti senti un po' più in difficoltà guardate quanti nemici ci sono qua sopra ne erano tre, uno è stato distrutto l'altro cerchiamo di abbatterlo noi e, mamma mia, ragazzi, siamo fortissimi vediamo se riesco a distruggerlo, eh abbiamo un nemico in coda, però cerchiamo di svoltare e con quest'aereo è facilissimo quindi, mano a mano, ragazzi, sto combattendo questa cosa soprattutto in che modo viaggiando perché se non viaggi non ti abitui mai quindi, quando mi tocca fare un viaggio preferirò sempre, ovviamente, che ne so, auto e il treno il treno ci mette molto di più rispetto ad un aereo però, almeno, dai, mano a mano si combatte sta cosa io, ragazzi, devo stare molto attento perché, nonostante la grandissima velocità che avevamo con quest'aereo siamo stati distrutti ovviamente, ragazzi, dovete darmi voi dei consigli se ci avete già giocato, magari, molte volte a World of Warplanes essendo gratuito, sono sicuro che tante persone l'hanno già provato e ci siamo riconquistati questa base ma benissimo! ragazzi, eravamo messi molto, molto male e arriva anche del maltempo mi viene detto lì in alto a destra devo dire che i giochi di aerei, tipo questo qui mi piacciono abbastanza poi vado in un aereo, ecco e la situazione mi piace un attimino meno vediamo un po', ci stiamo dirigendo probabilmente tutti verso il settore centro di comando ed è lì che dobbiamo provare a farci valere io vedo un nemico ed è infatti proprio sopra di noi e guardate, questi sono tutti amici vediamo se riesco a buttare lui giù chiamato Chatton Chatton mamma mia raga, lo sto colpendo grazie anche all'aiuto chiaramente di un altro vediamo se riesco a colpirlo rischio di stallo ragazzi, stavamo per distruggerci, eh però per fortuna abbiamo fatto un'assistenza lì di eliminazione in maniera del tutto impossibile e strana siamo riusciti a conquistare anche questa zona quindi molto bene così l'aereo deve un attimino rimettersi, ecco in... come si dice? si deve stazionare, ecco, in maniera regolare e proviamo a colpire lui che sta mettendo un bel po' in difficoltà un nostro amico vai che siamo riusciti a fargli un bel po' di danni però l'abbiamo ritrovato praticamente davanti a noi andiamo a girare dai dai dai, dobbiamo raggiungerlo cerchiamo di muoverci dobbiamo difendere il settore e forse ce l'abbiamo fatta ragazzi, non lo so purtroppo si stanno avvicinando altri nemici ed è difficile gestire la cosa, eh proviamo a vedere se riesco ad attaccarlo alcune zone purtroppo vengono conquistate ed è questo il problema andiamo a dare un po' di supporto ai nostri amici laggiù vediamo ragazzi, andiamo avanti eccolo lì, un altro se buttiamo giù questo forse riusciamo ad ottenere un altro po' di spazio per noi a livello di zone conquistate della mappa, eh purtroppo si è surriscaldato sì veicolo nemico abbattuto e purtroppo inevitabilmente ragazzi siamo stati sconfitti è stato un gran peccato anche se abbiamo fatto in generale una bella partita, dai in ogni caso ragazzi noi abbiamo provato solo un paio di questi aerei ovviamente qui guardate ce ne sono tantissimi da poter utilizzare ovviamente tutti diversi tra loro e questo è praticamente gigante vi ricordo che il gioco è completamente gratuito quindi tanto vale provarlo almeno una volta scaricatelo dal link che vi lascio qui in basso in descrizione e un link referral che vi permetterà poi di aggiungere anche quel codice per ottenere dei bonus in più sia per coloro che ci giocano oggi già sia per coloro che si iscrivano per la prima volta mi raccomando ragazzi iscrivetevi ora al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto cliccando qui al centro e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando sulle due miniature che vedete qui a destra e sinistra quindi alla prossima ciao 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 ciao